vi prego bibis non giudicatemi per la laner di oggi perché veramente ciao bibis e benvenuti sul mio canale youtube il mio nome è carmi e oggi siamo qui riuniti per fare un piccolo viaggio nel passato e bene sì stiamo parlando di un video che ripropongo oggi che avevo fatto il 21 febbraio del 2018 cioè un altro carmi tanti chili in più e soprattutto parlavo sempre solo in inglese quindi diciamo che il cambiamento è drastico infatti vi giuro devo farvi vedere questa clip l'ho vista l'altro giorno e ho avuto un cringe allucinante allora questo è il video di cui vi parlo vediamo un attimo cioè la intro è sempre la stessa ma questo sono io l'energia ok 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 veramente un sacco di cose devo dire che negli anni sono maturato abbastanza non solo per quanto riguarda lo stile perché quella felpa ce l'ho la uso solo per dormire ma soprattutto sono un pochettino più relax mi sa che l'effetto del caffè è completamente contrario a me il caffè non mi agita mi rilassa e quindi bibis se ancora non si era capito dal titolo e da questa intro che era assolutamente pessima oggi andremo a ridare una seconda possibilità a dei trucchi che ci hanno lasciato un pochettino a desiderare ma hanno lasciato un po la gola secca e soprattutto il portafoglio leggermente più più leggero ma senza motivo quindi io direi di iniziare non ho tantissimi prodotti ne ho più o meno una decina 9 10 prodotti però vediamo un attimo che succede e diciamo subito che non so dove è uscito quell'accento partiamo dalla nostra skin quindi dal nostro priming un primer che a me non è piaciuto tantissimo è stato questo qui della revolution pro che è il loro blur stick ancora una volta se sei nuovo qui io sono carmi e ho la pelle molto molto secca blurring stick a me veramente non non ispirano non mi lasciano la pelle bella sotto cioè si è levigata si hanno un pochettino di pore filling però appunto prima questo qua è gigantesco veramente è impossibile finirlo secondo me ma hanno proprio quel cioè questo è proprio slimy non mi dà proprio il senso riempitivo non lo so un prodotto che secondo me unge la mia skin e basta cioè preferisco il loro primer con la quello che praticamente deve essere il dupe della elfo del tatcha che lo trovo molto migliore come primer pore filling quello va utilizzato veramente pochissimo perché se no ti fa un white cast orribile però almeno quello funziona con le dosi giuste questo qua invece non lo so è quasi come non metterlo come effetto positivo ma è solo proprio grisi e non mi piace per niente e passando a un altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è il transform matte di natasha denona io natasha denona ancora devo capirla io natasha denona non ci non ci siamo proprio quando con questo pennello un pochettino più fluffy oggi perché questo è super super matte e mi segna tantissimo quindi ho deciso di utilizzarne veramente poco infatti quando metto proprio un paio di pump e la cosa che mi proprio mi intristisce è che questo fondotinta ha un match sulla mia schiena infatti vi faccio vedere perfetto cioè il match è stupendo però è super super matte e mi insegna veramente tanto quindi non lo so io questa volta non utilizzerò nemmeno la cipria perché sinceramente non è nemmeno una cipria che non mi sta piacendo rispetto all'altra volta credo di avervi elencato le ciprie di cui io sto più alla larga cioè tutte quelle che mi fanno flashback o mi fanno super peo super secco però questo fondotinta è così carino come colore quanto sbagliato come texture devo dire bibis che utilizzandone un pochettino di meno sicuramente mi sta segnando molto molto di meno cioè veramente non ha ancora quell'effetto che aveva la prima volta che l'ho utilizzato l'unica cosa è che a questo punto non mi dà la coprenza che mi serve soprattutto in questa parte qui della barba ma si nota molto più del solito però posso dire per un un effetto quasi tutti i giorni ci potrebbe anche anche stare ma sì per il prezzo non è uno dei miei preferiti io lo lascerei gli scusi denona ma io e lei non ci siamo capiti ancora passiamo a un altro prodotto che è caruccio niente di che è il banana stick contour di anastasia beverly hills vado a metterlo giusto un pochettino qui sul mio sott'occhi voi sapete a me non piace il fondotinta in stick di anastasia in verità non mi piace nemmeno quello liquido però in uno degli ultimi video vi ho detto che forse gli stick in contouring potrebbero essere migliori e poi mi sono ricordato quando stavo editando il video che io in verità ne avevo uno ed era questo qui per fare un po di highlighting mi sono ricordato che non manco questo mi piace è veramente pastoso difficile da sfumare mi segna tantissimo quindi ancora una volta forse quello da proprio contouring contouring potrebbe funzionare ma quello da highlighter no non funziona nemmeno questo il prossimo prodotto alla quale io veramente ci tengo a dare una seconda possibilità è questo bronzer di two face che è il chocolate sole tantissimi di voi mi avete detto che è il vostro preferito o che era uno di quelli che avrei dovuto acquistare perché non me ne sarei pentito e l'ho utilizzato solo una volta forse due ma credo solo una volta sinceramente non mi ricordo di buone esperienze e l'unica cosa che mi viene in mente è che ero molto sto aspettando che succeda qualcosa e non è mai successo niente quindi diciamo di riprovarlo oggi che ancora una volta fare un full face di prodotti che non mi piacciono soprattutto quando la base già è quello che è è difficile che poi le cose sopra funzionino però vediamo un attimo e mi ricordo che la prima volta che l'ho utilizzato forse era il fondotinta troppo scuro penso che fosse quando utilizzato il fondotinta della Clarins che aveva ossidato tantissimo lo lascio giù casomai in description dove ho utilizzato alcuni di questi prodotti e quindi non si era fatto vedere non c'era non c'era tanta pigmentazione rispetto a quanto era scuro il mio fondotinta quel giorno e devo dire che oggi ci sta mostrando un pochettino di più però un po' aranciato sono io o no che mi sembra un pochettino troppo arancione ma il bronzer arancione arancione così non mi garbano non lo so bibis ancora una volta brutto non è brutto da dire oddio ma non è nemmeno uno di quelli che c'è a me piacciono le cose piccole così le adoro soprattutto per viaggiare farmi il trucco on the go sono stupende ma non lo prenderei mai non sarebbe mai la prima cosa che dico devo mettermi nella mia travel case così mi faccio il trucco in aereo mi faccio il trucco da qualche parte no mi sa che lo lascio a casa anzi mi sa che ci sono buone possibilità che io lo regali a qualcuno e parlando di un prodotto che ancora una volta tantissimi di voi lo amano ha funzionato e per me non ha funzionato è l'highlighter di nabla questo qua è crown che è stupendo ha una patent che è wow quando l'ho visto l'ho dovuto subito acquistare infatti è stata la prima volta che ho utilizzato i prodotti nabla nel mio canale dove tantissime cose alla fine non tantissime cose ma tante cose non mi erano piaciute poi ho rifatto il video e sono riuscito ad aggiustare alcune di queste ma questo illuminante non è uno di quelli anche se ho seguito il vostro consiglio di bagnarlo con lo spray tutto quanto è proprio non è il mio tipo di highlighter preferisco tantissimo i loro nuovi highlighter i skin glazing quelli sono non belli di più cioè veramente se riuscite ad acquistarne uno se avete un pochettino di soldini da parte vi serve un highlighter bello ma proprio un inner glow di quelli che sembra che sta uscendo proprio dalla tua skin questa glow sono stupendi amnesia è il mio preferito sulla mia skin tone questo qua ancora una volta non è brutto non è illuminante che di solito prediligo io secondo me hanno fatto veramente qualcosa di top con i skin glaze però non lo so sono sempre un po' su questo highlighter non c'è non ci sta per me eccoci qua vivis belli vicini vicini pronti per iniziare i nostri occhietti ho velocissimamente fatto un paio di sorseggi mentre vi aspettavo quindi ne facciamo subito un altro e passiamo agli ombretti per questo video fortunatamente o sfortunatamente non ho nessun prodotto sopracciglia che ultimamente mi è veramente dispiaciuto assolutamente quindi casomai lo andrò a fare dopo dipende da come va questo makeup sicuramente non credo di tenerlo per ore e ore ma come palette ombretti sfortunatamente c'è questa qui che ancora una volta quando l'ho acquistata volevo tantissimo che funzionasse ma appena ho fatto il video di Nabla e l'avete visto tantissimi mi hanno detto Carmi hai preso la peggior palette che tu potessi prendere perché non è la più versatile è quella che è un po' più difficilotta da utilizzare e sinceramente vi ho capito perché poi ho provato tantissimi altri ombretti di Nabla ho provato la Dream E1 la Dream E2 ho provato la Secret stupende cioè veramente ragazzi quelle tre palette sono nella mia makeup collection proprio davanti a tutto e un sacco di volte le ho utilizzate anche off camera e sono bellissime ma questa qui la trovo molto incompleta o almeno per come mi piace a me truccarmi questa è molto on the go non so perché ma mi sta veramente venendo un sacco di spissa qua sopra non so se è il correttore non so se è il fondatinta ma mi viene un prurito qua al naso non mi piace questa cosa stavo dicendo questa è la palette bentornati per come mi piace a truccarmi a me manca qualcosina e vi faccio vedere packaging stupendo molto bella on the go c'è lo specchio bella pesantina così senti che la sostanza c'è ma come gamma colori questi qua li vedo molto più come topper quindi che li vai a mettere sopra una base già esistente se no è proprio uno smokey eye di quelli super flotti super leggeri ed è quello che più o meno faremo oggi infatti mi sa che vado prima con un pennello duo fibre di quelli a lingua di gatto e inizio con con quello che voglio iniziare oggi facciamo una cosa iniziamo con questo iniziamo con uno smokey ne vado a prelevare un pochettino vado a tamburellarlo qui su tutta la parte mobile degli occhietti e ci tengo a dire che la palette di per sé è pigmentata e gli ombretti sono comunque belli non sono brutti per niente non mi sono trovato male con la qualità degli ombretti mi sono trovato male con la gamma colori ecco mi sarebbe piaciuto tantissimo se ci fosse stato un vero vero e proprio matte o se ci fosse stato un colore forse un pop of color qualcosa di eccitante ecco mentre così sono stati molto una paletta un po' noiosina ecco scusami Nabla ma sapete io dico sempre quello che penso in maniera educata spero ma sì non è il mio stile naturalmente se è il vostro super contento per voi vi amo anche per questo perché siamo tutti un po' diversi ma non è stata la numero uno per me vado adesso con il mio dito e con questo colore qua che è molto bello al tatto lo vado a mettere proprio su tutta la parte centrale della mia palpebra proprio così era molto easy top proprio ad aggiungere un leggero punto luce e poi proprio col resto di quello che mi rimane cerco di diffonderlo un pochettino cercando comunque al centro di avere la parte più intensa e al di fuori la parte più leggera passiamo adesso Bibis a provare una tecnica che di solito non faccio tantissimo che è un eyeliner un pochettino più smoky quindi vado con il pennello angolato e il colore nero ne prendo giusto un pochettino e tolgo l'eccesso e vado prima a spingerlo molto molto vicino su le mie ciliette quindi deve essere molto attaccato quasi come se fosse proprio un eyeliner classico quindi piano piano raggiungiamo non c'è bisogno che siamo super perfetti anche un pochettino messi ci sta e vado a vedere questo effetto un po' da quasi soft un pochettino un po' più sporchetto e poi cerco di flickarlo un pochettino verso il fuori in maniera molto easy dopo comunque ci andiamo a mettere un eyeliner sopra però voglio che la parte più alta sia molto più soft adesso che abbiamo il nostro eyeliner delineato con l'ombretto quindi un pochettino smoky andiamo a creare quella intensità utilizzando un eyeliner vero e proprio e questo qui è di Fenty Beauty si chiama il fly liner è un eyeliner in in general col filter pen quindi ha il rischio un pochettino di asciugarsi e non durare tanto quanto un eyeliner liquido ma la cosa che non mi era piaciuta di più è comunque il finish veramente molto bagnato molto glossy e io preferisco un finish più matte soprattutto se poi vado ad utilizzare delle ciglia finte sopra trovo che un eyeliner matte dà quasi l'effetto di non avere questa band delle ciglia sopra quindi l'attaccatura troppo pesante mentre quando è glossy si nota molto molto di più quindi andiamo a mettere un pochettino di eyeliner ce ne iniziamo leggermente a spiaccicare sarà ancora più facile del solito perché comunque avendo la guidance dell'ombretto proprio tre secondi e dovrebbe essere fatto però non non credo mi piaccia alla fine vi prego bibis non giudicatemi per la liner di oggi perché veramente che cos'è che cosa mi sono combinato sono diversi è orribile ma ne sono dei due bello ma questo non è nemmeno il problema del fenty questo è il problema di carmi non so che cosa ho combinato cioè proprio no 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 ma assolutamente no quindi io direi di andare velocissimamente a incorpare un pochettino le ciglia per il prossimo mascara che credetemi ne ha bisogno bisogno di un po' di un aiuto ma questo si sta trasformando veramente in uno dei make up peggiori della mia vita e per aggiungere un pochettino peggio al peggio dalla padella alla bruace andiamo con questo cover girl exhibitionist mascara vi ricordate l'avevo utilizzato quando ero tornato dall'america quando ero tornato in new york avevo fatto un full face di prodotti acquistati lì e questo mascara si chiama exhibitionist quindi mi aspettavo qualcosa di extra qualcosa l'esibizionista e non non è successo quasi niente naturalmente all'epoca le mie cigliette erano molto più corte molto un po' sfigatelle vediamo se adesso con un paio di ciglia migliori di base se succede qualcosa ma io sono da non so 30 secondi che sto cercando di mettere quest'occhio e non sta succedendo assolutamente niente benissimo non so vivi se si vede in telecamera ma questa parte qui mi si sta diventando rossa e sto avendo tantissimo prurito che di solito non ho mai mi sta dando veramente tanto fastidio passiamo all'ultimo prodotto poi vado a sciacquarmi la faccia perché qualcosa non funzia oggi e sto parlando di un rossetto che è il rossetto di Floormar questo qua si chiama Super Shine My Favorite Bordeaux 517 l'ho utilizzato un paio di volte la tonalità non è la mia il prodotto di per sé non è nemmeno malvagio vado a utilizzare prima un po' di pencil sopra così da dare un pochettino una definizione perché con questi colori ce n'è bisogno comunque sto dicendo il prodotto non è nemmeno malvagio ma va un pochettino dappertutto la pencil invece mi piace la pencil la trovo molto carina molto scrivente infatti si può vedere subito che ci sta il prodotto che comunque dà una bella definizione ma questo qua senza una pencil non riuscirei neanche a me non riuscirei neanche a dargli una possibilità ecco quindi vado veloce sistemamente e poi ci mettiamo il rossetto insieme mettiamo adesso il rossetto quindi vado proprio al centro prima e lo applichiamo è comunque caruccio l'unica cosa che trovo di questo rossetto è che infatti gli stavo dicendo vada per tutto non è uno di quelli che una volta messo rimane va si muove cioè rarissimamente mi trovo i rossetti quelli sul mento questo due volte che l'ho utilizzato due volte sul mento dopo un paio d'ore mi è andato quindi non lo uso cioè lo uso per le foto se proprio devo per uscirci di casa infatti guardate già è sui denti quindi guarda mi ha da mettere un po' ma questo rossetto me lo mangerò tra due secondi comunque bando alle a qualsiasi cosa sia successa oggi perché ne sono successe di cose io direi che questo bibis è il look completo spero vi piaccia anche se sinceramente non sta piacendo a me quindi almeno spero di avervi intrattenuto un pochettino almeno siamo fatti un po' di compagnia personalmente rimango dalla stessa opinione di quando ho iniziato il video nel senso non sono i miei prodotti preferiti nessuno ha dato quel senso di redeeming quality che dico ok forse se lo utilizzo in un modo o in un altro potrebbe funzionare tra tutti proprio tra tutti forse l'illuminante è uno di quelli che oggi forse mi è piaciuto un pochettino più l'applicazione ma comunque mostra tantissimo più texture alla mia skin rispetto ai skin glazing che secondo me hands down sono tra i migliori illuminanti di sempre non NABLA ma proprio di tutti il resto non lo so la mia pelle non mi piace vi faccio vedere adesso dalle close up con essenziali artificiali come è avvenuta non mi sembra uno dei miei make up quindi non lo so grazie come sempre per essere qui voi come sempre sapete mi diverto tantissimo a chiacchierare con voi ogni tanto facciamo dei bubu mess e questo sicuramente è uno di quelli quindi grazie 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 se questo video vi è piaciuto lasciatemi una bella thumbs up iscrivetevi al canale commentate giù fatemi sapere qual è stato uno dei vostri fail più fail che anche quando l'avete riprovato più e più volte siete rimasti convinti che non faceva per voi non vedo l'ora perché forse abbiamo cose in comune e non so se vi piace farò un altro di questi video in cui decido di sicuramente non uscire mai più di casa perché assolutamente no quindi grazie 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 e always remember like if you like hate if you hate and until next time you're welcome e almeno ci sei tu caffè mio